Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Sentono da giorni questa battaglia per il Ministero della Giustizia con Berlusconi che vuole Elisabetta Casellati e la Meloni che vuole l'ex magistrato Nordio. Che differenza c'è tra i due? Nessuna, sono uno peggio dell'altro. Questa alternativa del diavolo, come la chiamava Forsythe in suo famoso romanzo, è l'alternativa fra due scelte che portano comunque a risultati terrificanti. La Casellati e Nordio la pensano esattamente allo stesso modo sulla legge Severino, sull'immunità parlamentare, sulle intercettazioni, sulla guerra ai magistrati, eccetera. Il problema per Berlusconi è intanto una questione di puntiglio. Il Ministero della Giustizia lo sceglie lui. Potrebbe essere anche l'uomo più vicino a lui, come sicuramente lo è Nordio, ma deve essere suo il Ministro della Giustizia. E Nordio non è suo. Mentre la Casellati lui la considera sua, perché l'ha portata varie volte in Parlamento. Ricorderai che una delle sue apparizioni televisive più celebri c'eravamo sia io che te, è quella in cui sosteneva incredibilmente di essere convinta che Berlusconi pensasse davvero che il Presidente egiziano Ubarak avesse una nipote marocchina, e cioè Karima El Marug. Trasmissione memorabile. Non credo che Nordio si sarebbe mai screditato andando a dire una cosa del genere. Chi invece è sotto il controllo di Berlusconi, questo è altro, per mantenere i posti che ha e magari guadagnare qualche promozione. Quindi è questo il tema. Dopodiché, secondo me, la Severino la vuole cancellare tanto Nordio quanto la Casellati. Solo che la Casellati la cancellerebbe perché glielo chiede Berlusconi. Nordio la vorrebbe cancellare perché crede veramente lui, in cuor suo, che sia giusto riaprire il Parlamento ai condannati definitivi per reati gravi.